Musica Allora siamo con Coach Macio al termine della partita vittoriosa della Dynamic Venafro contro il Cus Ionico Basket Taranto Coach è stata una partita un pochino strana sotto certi punti di vista Taranto è partita molto forte, ha messo in difficoltà i ragazzi di Venafro Dopo però al terzo quarto siete usciti con il piglio giusto dallo spogliatoio Penso che li ha catechizzato molto bene all'interno dello spogliatoio Pressione a tutto campo sui portatori di palle, molte palle perse da parte dei tarantini L'abbiamo detto anche in telecronaco con Coach Boianelli Fortuna, parlando di parte ovviamente Fortuna per la scarsa realizzazione degli uomini di Taranto Soprattutto sotto canestro, palle facili, sbagliate Che partita ha visto Coach Macio? Noi siamo partiti soft come c'è già successo contro Vasto E là la pagammo perché giocammo obiettivamente con una squadra più tosta di questa qua E questo non va bene perché poi puoi recuperare contro squadre del genere Una squadra più forte in una partenza del genere ti uccide alla fine Noi avevamo parlato di... avevamo dieci giocatori dieci Invece che potevano stare in mezzo al campo Con le rotazioni molto più ridotte per quanto riguarda Taranto Anche con l'assenza di poti Quindi avevo chiesto grande ritmo, più situazioni di campo aperto E noi non l'abbiamo fatto, abbiamo subito i loro attacchi nel primo tempo Abbiamo fatto fare per esempio a Siro quello che vuole fare Va stato sinceramente alzare un po' la linea difensiva con la 3-2 iniziale E portare a casa la partita Poi il pathos finale è stato più perché ricordavamo altre partite Ma non era questo Io sinceramente stavo già pensando a domenica prossima Perché era una partita chiusa Potevamo chiuderla meglio Ma si è chiusa per me dal punto di vista proprio tecnico nel terzo quarto Nell'ultimo quarto Taranto ha piazzato una 2-3 Dove Benafra ha fatto un pochino di difficoltà ad attaccarla Siamo arrivati al massimo vantaggio di 18 punti Dopodiché c'è stata la piccola rimonta di Taranto Che erano iniziati di nuovo ad alleggiare i fantasmi qui all'interno del Pedemontano Per tutte le partite perse nel finale quelle scorse Che cosa è mancato per l'attacco di quella zona che ha messo Taranto? L'attacco alla zona pari è un attacco tra i più codificati Tra tutti gli attacchi ai vari situazioni individuali o di zona Presuppone che la palla debba entrare all'interno del pitturato Debba uscire con i tempi giusti e ci sia una situazione di rotazione e di blocco del post alto Noi abbiamo fatto male almeno 2-3 di queste cose E poi ti devi affidare a situazioni personali Quando l'abbiamo attaccata come il manuale comanda Abbiamo fatto canestri semplicissimi da sotto Oppure tiri i piedi per terra negli angoli Per tutta la settimana noi siamo allenati su questo E poi la partita è un'altra cosa La rimonta loro era prevedibile Ma abbiamo l'esperienza di capire che non era quel tipo di rimonta Come è successo contro Mola per esempio Perché i presupposti non erano quelli lì C'era un discorso sul differenziale che sinceramente mi importava Fino a un certo punto è andato bene pure quello Perché pareggiandolo sostanzialmente Con la differenza canestri che abbiamo Che è quella di un'ottava e non di una dodicesima Siamo abbondantemente sopra quel discorso con Taranto Dovevamo fare qualcosa di più nel primo tempo Perché noi il secondo tempo lo abbiamo vinto bene Il primo tempo non abbiamo fatto quello che avevamo preparato in settimana Allora affrontiamo adesso due trasferte consecutive Si va prima a Bisceglie Andiamo a ritrovare Corral e poi si viaggia alla volta di Pescara Con quale spirito affrontiamo queste due trasferte? Ci può scappare il colpaccio? Allora prima di tutto A sette giornali alla fine abbiamo fatto i stessi punti nel giorno di torno che nel giorno di andato Sicuramente con una squadra diversa Dico Corral che ritroveremo a Bisceglie È un top top del campionato Abbiamo rimescolato gli equilibri E i numeri ci dicono che abbiamo fatto bene per noi Ha fatto pure bene lui visto la squadra in cui è andata Affrontiamo due partite impossibili sulla carta Perché affrontiamo due squadre che sono sopra di noi in classifica E hanno roster più importanti Ora voglio vedere la nostra squadra di che passo è fatto Perché pure questa sera troppe incomprensioni tra i giocatori Troppi musilunghi sui campi Troppi musilunghi in banchina Vorrei da parte di tutti una maggiore allenabilità durante la settimana E soprattutto una maggiore collaborazione durante la partita Dove ci sono i momenti in cui c'è la situazione di cambio Che non è sempre punitivo e molte volte anche tecnico per cambiare i quintetti Faccio un esempio A un certo punto ho levato Alessandro Brusello che stava giocando un buon basket Ma contro zona da lungo non occupava la posizione sotto al canestro Che poi è andato a occupare Matteo con gli assist di Onorio o di Mimmo E Alessandro ha capito perfettamente che in quel momento non serviva Che stava in campo e tornato in banchina è venuta a incitare la squadra Altri campi non mi sono piaciuti sia per come sono stati gestiti Però nel momento del cambio Ma soprattutto con i musilunghi e le paroline dietro Noi ormai siamo fatti il callo ad avere orecchie davanti e dietro In più da oggi avevo Peppe Malamace in banchina E invece di avere due orecchie ne tenavamo quattro Abbiamo sentito tante cose che non ci piacciono Ma abbiamo vinto Abbiamo un referto rosa sul tavolo Abbiamo 12 punti L'ultimo in classifica ne ha due Sergna ce ne ha sei Usciamo un po' a sorridere Quando vinciamo in casa in modo tranquillo Otomio sempre trovarci un guaio, un problema Qualcosa su cui recriminare Io chiudo così Quando vedo il classico bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto Per me non è mezzo pieno ma tra bocca Alcuni giocatori non vedono manco il bicchiere Coach ti faccio un'ultima domanda Martina batte Agropoli Agropoli domenica scorsa l'abbiamo visto Abbiamo tenuto testa per due quarti Terzo quarto quella parziale di 16 attrici ha spezzato le gambe Secondo te il campionato può essere riaperto Con questa ulteriore sconfitta di Agropoli Oppure è sempre lì sopra che deve rimanere Agropoli Con Bisceglie e Pescara inseguitrici fino alla fine Martina è una società che ha investito Ha preso due giocatori in più senza levare nessuno Si allenano con 10-10 E crede molto in questo progetto Bravi loro Che Agropoli avesse una flessione è assolutamente normale Palermo si rafforzerà nei piccoli Probabilmente si rafforzerà nei lunghi Bisceglie ha preso Corral Vedremo purtroppo da spettatori probabilissimi Dei play-off veramente incerti Perché questo campionato lo possono vincere veramente Due, tre, barra quattro squadre Noi abbiamo per conto nostro Dobbiamo arrivare a vederci Penso purtroppo la post-season Avendo fatto Non chiudendo ovviamente a 12 punti Quelli che abbiamo raggiunto ora Che ci dovrebbero già dare la salvezza Ma provando a interpretare le prossime partite Come una sfida personale Individuale e di squadra Nell'essere professionisti Nel stare in campo Nel farsi allenare Nel dare una pacca al compagno Quello che dicevo prima Perché è una cosa che ci serve per quest'anno E ci serve a tutti Per il loro futuro di giocatori Grazie mille Per il loro futuro di giocatori